Benvenuti in questo nuovo video speciale, speciale come la presentazione che sto andando a fare in questo momento per l'ospite sempre speciale che ci accompagnerà per la durata dell'intero video. Non perdiamoci in altro chiacchiere ma passiamo subito alla presentazione di questo ospite. Lui ha più di 1000 iscritti sul suo canale YouTube, lo so, lo so, sono tanti di più, ma è stato il primo ad avere successo con i giochi di Mamma Supercell, prima con Clash of Clans, passando poi a Clash Royale e in questo momento con Brawl Stars, uno dei pochissimi italiani a varcare la soglia della sede della Supercell a Helsinki. Dunque, che squillino le trombe, che trombino le squillo, abbiamo qui con noi Dragon. Hello guys! Ciao Lonnie! Ci siamo, ci siamo. Quanto sei? 6.000? 6.900? Quanto è che sei? 6.000 e 6.000 tipo. Fai schifo, fai schifissimo, fai schifissimo. Lo so Lonnie, lo so tu? Io ho perso un profilo full max, comunque. Quando ancora ero in due dia, sì 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 sì, ero in 10.000, colpa del lag, la terra è piatta. Ragazzi, like perché la terra è piatta. Ci fa compagnia anche Pull8, dottore Pull8. Andiamo a usare il primo. Tu, beh micchia, rank 19. Ci sei fai. Gem grab, ci faremo due partite per la Road to 1000. Ci siamo, 993. Ci andrà mica di sfiga che le perderemo tutte? È colpa del lag anche lì, fa niente. Sì 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 sì, sei le madonna che tiro. Ci siamo, ci siamo. Nice. Nice, moi. Adesso vedi che non sto registrando. Io ho imparato una tattica particolare con il primo. Pull, 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 svegliati Pull. La mia tattica particolare è quella di spuntare dietro... Quintare? Sì esatto. No, è quella di spuntare dietro i cespugli e fare malissimi. No dai, no, la connessione! Dio. Come la connessione? Eh sì, sono morto per la connessione. Puoi fare? Eh sì, per forza. Poi lo vedrai. Ci sta, io vedo la gente ferma comunque. Sì anch'io. Potrebbe essere un buon segno. No! Mi sono fatto una super... Sì, sì, oddio, è easy. L'unica difficoltà, te l'ho detto, potrebbe essere il lag. Dai, 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 che ci facciamo! Come si chiama quello che stai usando tu? Jesse? Io, po... Eh? Io sto usando Jesse. Sì, 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 abbiamo un Jesse contro. Ti sentirei, laddmi? È che quando mi senti invocare qualche... qualche madonna è perché ci sto morendo male. Ah, ok, va bene. Benissimo così. C'è il bull che è un po' mi dà fastidio. Il bullino? Sì, 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 sì. Però... Jesse ce la dovremmo fare. In realtà no, non me la sono fatta. All'intanto avevamo preso il controllo del centro, quindi... Sì, 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 però me lo andrò a fare così. Vai, vai. Cattiveria. Comandi! Fatti! Però adesso devo scappare veloce. Devo scappare veloce! Devo scappare veloce! E... Tac! Mica, se ci muori, vincono loro, tipo. Dai, nove secondi, resisti! Bello! Eh, sì, dai, easy. 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 Eh, me la sono fatta all'ultimo, hai visto? Sì, easy che tra l'altro la partita è durata anche tanto, strano. Eh, beh, io... Vedevo la gente ferma. Gioca ancora? Sì, 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 più 5, siamo a 9, 9, 8. Ora. Buono! Ora. Rullo di tamburi nel video, Lonnie. Sì, il discorso non è che va come Clash Royale, che è 9, 9, 9 e ti partono i meno 40. No, dai, spero proprio di no. Spero proprio di no. Beh, comunque un altro paio di partite ce ne possiamo fare, nel senso, io ve le faremo lì. Ma che mi vado a prendervi di qua? Un setto peloso! Ma sc***o in cu**o, sc***o fatto. Ok, uno. Shoot! Dai, dai, che vi faccio poco! Mi l'ha fregato Pulei! Mamma mia, quante ho qui, Jesse. Eh, sì. Anche perché c'è il colpo rimbalzo, no? Quindi... Eh, sì, sì, sono quello esatto. Guarda, tu ci devo morire per la torretta. È una roba assurda questa cosa. Basta che... Ok. Ok, poco è mio. Ora io... Andrei a fare così. No, 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 ci muoio. Eh, sì. Ci sarà morto. Beh, dai, andiamo in remontata. Era tutto calcolato, in realtà. Era il gesto per fare la terza partita, capito? Non è fatto apposta. Allora, poco sta per morire. Potremmo... Nooo. Anche Nita, in realtà. È il primo! Madò! Oh, shoot, man! Vabbè, io me la voglio in roccia. No, è sicuro. Io c'ho il panda addosso. C'hai il panda addosso? Eh, no, niente, sono morto anche io. Fa niente, fa niente. Meglio, meglio! Ci siamo, il 995 sta partendo la droppata. No, oh, se parte la droppata... No, no, non voglio spaccare una nana di panda. No, per forza, non posso. Non posso. Stata volta vado cattivo, duro, proprio contro i denti. Infatti ci muoio, vedrai, vedrai, vedrai che ci muoio. Ok, ole. Devo riprendere la vita. Si, carico... Cura chi va indietro, ok? Devo riprendere la vita. Anche tu si è messo maluccio, eh? E c'è poco. C'è la torretta che sta facendo... Buonissimo lavoro, GG. Ok? Beh, la torretta lì, posizione tattica, eh? GG al posizionamento. Ok, sono morti. Quei due. Si vede che sei un player da 6.000. Si vede. Io ancora non ho killato nessuno, comunque. Questa cosa mi sta abbastanza sul cazzo. Sfalto, c'è la coltia, attento. Però non è anche la tennis. Uh, è morto, praticamente. Ehi, ha 14 di vita. Un shit. Va bene. 14 di vita. Comunque sto giocando malissimo. Non volevo dirlo. Vieni, vieni, vieni che ti prendo con la ulti. Vieni qua, vieni qua, bellissimo. Ok. Buona, buona, proteggine, proteggine. Tanto ci sono io che sono senza gemme, quindi posso andare... Tranquillo, bravo. Vuoi fare quel cacchio che ti pare, Nanny. Scegli, scegli, mi sta sul cazzo. E infatti c'è morta. Qui ha una. No, dai, poco lo stavo uccidendo. Mancava... Ah, non ha messo lì con la fine? Non me ne sono neanche accorto. No, non ha messo. No. No. Comunque siamo ancora a 998. Vai, vai. Dai, l'ultima, l'ultima, l'ultima. Like now, instant. Gem grabbed, eh. Allora, ma hanno detto che si sale un botto con Showdown. Sì. Però... Però deve essere bravo, se no ne perdi troppi di troffi. Chiaro. Minchia, c'è Piper. Io salgo molto con Rapina. Che cazzo è Rapina? Che io sono in inglese i nuovi. È Haste. Ah, ok. Ci sta. Olè, olè, olè. Occhio a Piper che... Adesso l'avrà da fare così. Così, in testa l'avrà da fare Piper. L'abbiamo chiusa. L'abbiamo chiusa. Olè. Io mi occupo della torretta. Aiaiaia. Mamma mia, non ci è arrivato a colpo di Piper. Devo scappare malissimo proprio. Eh, quella Piper è brava, eh. Sì. Si vuole vendicare la maledetta. Assolutamente devo prenderla. Maledetta, maledetta. Ma c'hanno pure un mortaio. Cioè, è picco. Per cosa? Per... Come si chiama? C'è un pestano. Dai, ma li sono fatti tutti. Eh, questo da far fuori, eh. Questa Penny da far fuori, ok. No, 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 no. Piper di merda. Adesso li ha restituisco, guarda. Ok, se Clash è morto. Sono morto anch'io. Se Clash muore, mi hanno perso. No, Bulate, no, Bulate, no, Bulate. Vai, vado avanti io. Ok. Dai, sono sacrificato per la vittoria. Per la vittoria. Dai, ritira il premio, Lotti. No, no, li sto accumulando dei 500. Vabbè, abbiamo cambiato personaggio. Bulate aveva un impegno a salvare il mondo e conquistare San Marino. Siamo con Pigeoneloo. Fa parte dei makers, giusto, se non sbaglio? Pigeoneloo. No. No, mi sembra. No, sì. Per Natale... Ha cambiato 30 bande, non lo so. Per Natale dell'anno prossimo gli regaliamo qualche vocale da mettere nel nome, comunque. Jam Grab, a cambio di ospite. Sempre io, Dragon e Pigeoneloo. Vieni qua, Bul, vieni qua, Bul. Vieni qua, Bul, che tacchiappo. No, 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 mi fanno malissimo! Mi senta un po' che... Manco fosse una bella figa che mi vengono addosso tutti. Oddio, ho detto così suona malissimo comunque. Quello che ho appena vero. Dude, non scava. Questo deve morì però. Ma chi, Bul? No, c'è una scena di via sinistra con la ultima. Vado a fare io bull, vieni qua bellissimo di papà Allora c'è uno il primo qua, che scarta un po' Eh ma io sono... Boom Ok vado in mezzo No mi ha fatto fuori Aia quella carica Che sempre posso Torna indietro, torna indietro, torna indietro, vado io Eh ma sono in mezzo a due Ma ha fatto Oh mamma mia Eh qua ci fottono Ottimo, grandissimo Prendile, prendile tu Ma è che sto tirando fuori I peggio dinamiti per... ok Ok, tutti fuori Eh Nita si è fatta la super colpendo me e basta Dai 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 L'ho chiuso all'angolo, l'ho chiuso all'angolo Ottimo, fatta GG, io ho la super Andiamo di super GG Ottimo Mazzini Eeeh E niño Dai 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 Ci siamo Dai che ci siamo Dai che ci siamo Ma hai fame di merda Ma vedi tu se mi diventa un pericoglione in me E ci siamo Comunque tutti i tuoi gli stia facendo il best player eh no comunque buono buono sta riuscendo a reggere il matchmaking alto che tu perché sei a perché sono uno scarso a merda sì 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 no perché siccome pg c'ha 12.000 atti al ma no no scusa niente dice a 3.000 allora sono i calci sì 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 se tu che sei una sega esattamente detto questo vabbè noi continuiamo a giocare però devo chiudere il video che siamo tipo a 25 minuti e non mi pare caso tu vuoi dire qualcosa vuoi mandare allora dei miei miei video non so se li hai visti cosa nei miei video non so se hai mai visti di tutti eccetera eccetera l'ospite ha la possibilità di mandare a fanculo qualcuno si vada a fanculo tema bascini va bene dire che durata che fin troppo vi ringrazio ringrazio amer dragon per aver partecipato a questo via che l'anni poi vedrai la bellissima presentazione che ho fatto sarà tutta la sorpresa c'è ragazzi like condivisione lasciato un commento fate un cazzo mi pare al prossimo video ciao ragazzi